troppo max per le due ferrari già dalla partenza fa capire l'andazzo della gara e al via brucia sainz poi si mette all'inseguimento di charles che sorpassa non appena il pilota monegasco ha qualche eccedimento a caso del graining una gara solida e una costanza nei tempi in formato a mer time hanno fatto la differenza bravo max complimenti è stato bello un'altra cosa ma davvero buona bene ma tu davvero è stato fatto la pass e i ultimi passi dopo l'alba dopo l'alba di santo l'alba di farlo bene per portare l'alba e tu ti è stato fatto un ottimo lavoro ragazzi buon riconosco a presto di l'alba quindi siamo molto orgogli di questo Grazie a tutti. Grazie a tutti.